Scusa, ma tu che mandi tutti questi curriculum, ma che lavoro vuoi fare? Ma che domanda è che lavoro vuoi fare? Io voglio fare una cosa che c'è poco affitto, bollette, lavoro normale. E allora che cazzo te lamenti se devi consegnare giornali? Pur io mi volevo ammazzare quando mi hanno chiamato questi tu lavoro adesso. Ma io perché sto aspettando il concorso, io voglio insegnare, tutta la vita che studio perché voglio fare quello. E invece sto vendendo gli scopettoni pecessi. Ma a te che obiettivo ti sei dato? La domanda mi devasta. La verità è che io non ho obiettivi, so perfettamente che mandai curriculum in esercizio. Una cosa che mi serve è rappresentare me stesso all'interno del paradigma di integrazione sociale. Però sta ricerca del lavoro non era finalizzata a realizzare nessun desiderio, nessun obiettivo. Io inconsciamente speravo solo che prima o poi succedevano una catastrofe così grossa che arrivava qualcuno che diceva Vabbè regà, sta cosa del lavoro è finita.